Allora amici stiamo andando a Firenze a vedere che è il sequel del codice da Vinci L'entusiasmo proprio incontenibile Ufficialmente è il primo putto, cioè il mio putto preferito nel mondo Da qui sembra che si sta scopando comunque Ciao amici stiamo andando non so bene dove e niente siamo pronti Ciao saluto agli amici, ciao Questa qui è la valigia monopattino Ma quando quando hai una valigia monopattino? No no la valigia monopattino viene con noi Ma il monopattino si può scorporare? Ma no ma se no che gusto c'è a scorporare Questa statua nasconde della droga dietro la schiena Siamo qui praticamente i ministri hanno rotto i coglioni a tutti Hanno fatto bloccare tutta la fila E niente adesso riprendo loro che mi piacciono un s***a Io c'è un mito Cosa sta di grafica Sta per partire il film L'asciugo è imperiale Ma io volevo salutare lui Che ha cercato di farci una foto mentre limonavamo Gli è partito il flash, il mitico Abbiamo finito di vedere questo bellissimo film Inferno Chiara facci una recensione No la lascia a te, vai Bellissimo No la lascia a te, vai